Sono due partite diverse per valore delle avversarie rispetto alle ultime due che abbiamo giocato nelle qualificazioni europee. Tu che sei anche un osservatore, un esperto di pallamano internazionale, che Turchia ti aspetti di trovare dall'altra parte? Senti, guardando tutti i video che Riccardo e lo staff ci hanno messo a disposizione, hanno una buona squadra. C'è una buona squadra, magari bisogna anche essere realisti e non paragonarle né alla Francia né alla Polonia. Però noi se continuiamo con lo stesso livello abbiamo una buona chance di passare il turno. Anche forse grazie al fattore campo nella seconda partita, quanto può incidere, può contare a tuo avviso questo? Tantissimo, tantissimo. Giocare in casa la partita, diciamo, la bella è importante, molto importante. Però secondo me sarà importantissimo tenere un ritmo alto e giocare una buona partita a casa loro, perché determina dopo come puoi affrontare la seconda. Quindi restiamo concentrati perché la prima partita, andiamo step by step, perché la prima partita è quella importante secondo me. Dopo riusciremo a vedere come va con la prima e affronteremo la seconda della stessa maniera. Però è importante arrivare bene alla prima. Da un lato gli infortuni, innegabilmente un problema in questo tipo di partite, in queste gare secche. Dall'altro però tanti giovani che si stanno facendo largo, che hanno voglia di emergere e che si stanno prendendo spazio anche in campionati importanti. Ne cito uno, penso a Simone Mengon, in Bundesliga. Sì, sicuramente Simo, come Leo, come Umberto stanno facendo molto bene. Adesso abbiamo comunque qualche infortunio importante, però bisogna andare avanti. Questa è la palamano, lo sport di alto livello è questo, passare oltre a questi problemi e risolvere. Quindi cercheremo di risolvere le assenze e di cercare di fare il meglio.